Grazie. Questo potrebbe essere il più importante discorso che io abbia mai fatto. Vorrei fornirvi degli aggiornamenti sui nostri sforzi per mostrare le tremendi frodi elettorali e irregolarità che hanno avuto luogo durante il periodo del 3 novembre delle elezioni. Noi eravamo soliti avere ciò che si chiama giornate elettorali. Adesso abbiamo giornate elettorali, settimane e mesi elettorali e molte orribili cose sono successe durante questo ridicolo periodo di tempo, specialmente quando non devi provare praticamente nulla per esercitare il nostro più grande privilegio, il diritto di voto. Come Presidente non ho compito più importante che quello di difendere la legge e la Costituzione degli Stati Uniti d'America ed è questa la ragione per cui sono determinato a proteggere il nostro sistema elettorale che è adesso sotto un assalto coordinato. Per mesi, prima delle elezioni presidenziali, siamo stati avvertiti che non dovevamo dichiarare una vittoria prematura. C'è stato detto ripetutamente che ci sarebbero volute settimane, se non mesi, per determinare il vincitore, per contare i voti a distanza e verificare il risultato. I miei oppositori, ai miei oppositori è stato detto di stare lontani dalle elezioni, di non fare campagna. Infatti loro si sono comportati come se sapessero già quello che sarebbe successo. Lo hanno nascosto e lo hanno fatto in maniera molto triste per il nostro paese. È stato tutto molto, molto strano. Nei giorni dopo le elezioni abbiamo visto un tentativo orchestrato per annunciare il vincitore, anche se molti stati chiave stavano ancora facendo i conteggi. Il processo costituzionale deve essere libero di continuare. Noi difenderemo l'onestà del voto, assicurandoci che ogni voto legale sia contato ed ogni voto illegale non sia contato. Questo non riguarda solamente l'onorare il voto di 74 milioni di americani che hanno votato per me. Riguarda l'assicurarsi che gli americani possano avere fiducia in queste elezioni e in tutte quelle future. Oggi vi mostrerò alcune delle scioccanti irregolarità, abusi e frodi che sono stati rivelati nelle recenti settimane. Ma prima di mostrare una piccola porzione delle prove che abbiamo e ne abbiamo così tante, vorrei spiegare il corrotto sistema di voto elettorale che i democratici sistematicamente hanno messo in atto per rubare voti ed alterarli, specialmente negli stati chiave, che dovevano vincere assolutamente. Semplicemente non sapevano che sarebbe stato così difficile perché noi eravamo in vantaggio in ognuno di questi stati di tantissimo, molto di più di quanto loro potessero ritenere possibile, mentre è stato compreso da tempo che la macchina politica dei democratici coinvolti nelle frode elettorali, da Detroit a Philadelphia, a Milwaukee, ad Atlanta e molti altri luoghi, quello che è cambiato quest'anno è che il Partito Democratico ha fatto stampare decine di milioni di voti inviati a persone sconosciute con nessuna assicurazione di nessun tipo e questo ha consentito frodi ed abusi su larga scale mai visti prima. Utilizzando la pandemia come un pretesto, i politici democratici e i giudici hanno cambiato drasticamente la procedura delle elezioni appena mesi e in alcuni casi settimane prima delle elezioni del 3 novembre. Molto raramente ci sono state legislature coinvolte e da un punto di vista costituzionale devono essere coinvolte, ma molto raramente abbiamo visto qualcosa del genere. È costituzionalmente assolutamente incorretto quello che ha avuto luogo, anche da un punto di vista legale. Molti stati come il Nevada, la California, hanno mandato milioni di voti elettorali a ogni persona che fossero richiesti oppure no, che fossero morti o che fossero vivi. Hanno ottenuto la scheda elettorale. Altri stati come il Minnesota, il Michigan e il Wisconsin hanno istituito un voto universale per gli assenti. Nel mezzo di un anno elettorale hanno inviato richieste elettorali a tutti i votanti e non importa chi fossero. Questa enorme espansione del voto elettorale ha consentito frodi giganteschi. È un fatto ben conosciuto che i voti per posta sono inviati a pacchi non sono verificabili e inviati a persone che non hanno diritto di voto, compresi quelli deceduti che si sono trasferiti dal proprio Stato e anche che non sono cittadini del nostro Paese. E al di là di questo i registi sono stati riempiti di errori, indirizzi sbagliati, duplicati. Questo non è discutibile, non è mai stato discusso. Dozzine di contee negli stati chiave hanno più votanti registrati dei cittadini in età di voto, comprese 67 contee in Michigan. Tutto è provato. Nel Wisconsin, il board elettorale dello Stato non può confermare la residenza di più di 100.000 persone, ma hanno ripetutamente rifiutato di rimuovere questi nomi dalle liste elettorali prima delle elezioni. Sapevano perché nessun altro l'ha fatto. Io so perché. Sono voti illegali. È una parodia che nell'anno 2020 non abbiamo modo di verificare l'eligibilità di quelli a cui vengono inviati i voti per posta in un'importantissima elezione come quella attuale. Non possiamo determinare chi sono, se vivono nello Stato o se sono cittadini americani. Non ne abbiamo idea. Abbiamo in tutti gli Stati chiave enormi, gigantesche infrazioni o frodi vere e proprie che sono molto di più nel numero dei voti di quelle necessarie per alterare il risultato. In altre parole, in Wisconsin per fare un esempio, dove abbiamo avuto una notte elettorale in cui stavano miracolosamente perdendo per 20.000 voti. E posso mostrarvi proprio qui che il Wisconsin, eravamo in vantaggio di molto in Wisconsin. E poi alle 3.42 del mattino c'è stato questo. Un impressionante salto di voti. quasi tutti per Biden. Quasi esclusivamente per Biden. E cerchiamo di domandarci, da dove sono arrivati? Sono passato dal essere in vantaggio di moltissimo ad essere in svantaggio di pochissimo. Ed ecco, è proprio qui, alle 3.42 del mattino che si è ribaltata la situazione. Una cosa terribile. Ma abbiamo molti altri, dei 20.000 voti necessari per ribaltare il risultato dello Stato. Se si è trattato di una frode, Joe Biden non può essere presidente. Parliamo di centinaia di migliaia di voti. Parliamo di numeri che non sono mai stati visti prima. Solo per fare un esempio. In determinati stati siamo stati sconfitti per, diciamo, 7.000 voti, ma abbiamo scoperto dopo 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 discrepanze o voti fraudolenti. E questo include voti che sono arrivati quando non era più possibile essere visti dai controllori del voto repubblicano. Perché i controllori del voto erano stati chiusi fuori dal palazzo. O la gente che innocentemente è andata a votare al 3 di novembre, che erano eccitate dal fatto di votare, che erano felici, erano orgogliosi di essere cittadini degli statuti d'America, e sono andati e hanno detto, voglio votare. E gli è stato detto che non potevano votare. Ci dispiace, gli hanno detto, ci dispiace. Avete già votato. Con il voto elettorale. Congratulazioni. Abbiamo ricevuto il vostro voto, quindi non dovete votare più. E loro non sapevano cosa fare. Non sapevano come comportarsi. La maggior parte, semplicemente, se ne sono andati hanno detto, questo è strano. Ma molte persone hanno protestato, hanno protestato violentemente e in alcuni casi hanno ottenuto un voto provvisorio che non è stato mai espresso, ma che nella maggioranza dei casi era un voto per Trump. In altre parole, sono andati a votare e gli è stato detto che avevano già votato. E non avevano votato. E se ne sono dovuti andare. E hanno provato l'orrore della mancanza di rispetto per la nostra democrazia e il nostro sistema. E questo è successo decine di migliaia di volte in tutto il paese. Questo è quanto disperati democratici erano. Hanno utilizzato voti di persone, neppure sapendo se queste persone si sarebbero fatte vedere. Quando si sono fatte vedere, hanno detto, ci dispiace, avete già votato. E in cima a tutto abbiamo una società che è molto sospetta. Il suo nome è Dominion, che con il cambio di un chip puoi premere un bottone per Trump e il voto va a Biden. Che razza di sistema è questo? Dobbiamo tornare alla carta. Magari ci vuole un po' di più, ma l'unico sistema sicuro è la carta. Non questi sistemi che nessuno conosce, compresi in molti casi, le persone che li gestiscono, anche se sfortunatamente io credo che quelli lo comprendano fin troppo bene. Bene, in uno dei conteggi in Michigan, per esempio, che ha usato il sistema Dominion, hanno trovato circa 6.000 voti che sono stati contati erroneamente, da Trump a Biden. E questa è solamente la punta dell'iceberg. Questi sono quelli che abbiamo trovati. Quanti non ne abbiamo trovati? Ce ne sono centinaia di altri esempi in tutto il paese. Ce ne sono migliaia? Siamo stati fortunati. Anche il 96% delle donazioni delle compagnie private sono nate democratici. E non è una sorpresa. E francamente, quando guardi a chi controlla quelle compagnie, chi le governa, chi le possiede, che noi non lo sappiamo, con voti che vengono contati in paesi stranieri, non negli Stati Uniti. Dominion è un disastro. Le autorità elettorali in Texas hanno ripetutamente bloccato il sistema Dominion, per ragioni di sicurezza, di vulnerabilità e per la possibilità di errori e frodi volontarie. Ogni distretto che ha usato Dominion deve essere attentamente monitorato e investigato, ma non solamente per il futuro. Adesso siamo preoccupati del presente e su questa elezione che noi abbiamo vinto, senza alcun dubbio. In Georgia hanno utilizzato lo stesso orribile sistema Dominion e centinaia di migliaia. Pensateci, centinaia di migliaia di voti assenti sono stati richiesti. Bisogna controllare chi ha richiesto questi voti. La differenza è che in questi Stati noi controlleremo come nessuno mai fatto prima, perché dobbiamo vincere questi due seggi al Senato. L'incredibile successo che abbiamo avuto nella Camera dei Rappresentanti e il tremendo successo che abbiamo avuto finora nel Senato, un successo inaspettato in tutto il Paese e anche qui a Washington. È statisticamente impossibile che la persona, cioè io, che ha dominato lo scontro perda, i principali sondaggi, i veri sondaggi, non quelli che ci davano 17 punti sotto in Wisconsin dove invece abbiamo vinto, o quelli che ci davano indietro di 4-5 punti in Florida e abbiamo vinto di molti punti, o ci vedevano perdenti in Texas e abbiamo vinto di molto. Non questi sondaggi, ma i veri sondaggi, i sondaggi che sono giusti e onesti, dicono che una cosa del genere non è mai successa prima. Tu hai portato il Paese alla vittoria e sei l'unico che ha perso. Non è possibile. I deputati di un certo Stato hanno detto, signore, io mi aspettavo di perdere il mio seggio. E invece, grazie a lei e alla incredibile energia che ha portato, abbiamo avuto una vittoria schiacciante e tutti lo sanno. Lei è molto più popolare di me. Eppure io ho avuto molto più voti di lei e questo è impossibile che succeda. C'è qualcosa che è andato storto. Ve lo dico io cosa è andato storto. Frodi elettorali. Ecco un esempio. Questo è il Michigan. Alle 6.31 del mattino un salto elettorale di 149.000 voti è arrivato inaspettatamente. Stavamo vincendo di molto e all'improvviso è stato ricevuto con orrore questa notizia. Nessuno ne sapeva nulla. Guardate, c'è una linea. Questa è normale e adesso guardate qui. E a un certo punto, boom, tutto all'insieme. Stavo vincendo di molto e sono passato dal vincere di molto di perdere per pochissimo. È corruzione. Detroit è corrotta. Ho molti amici a Detroit. Lo sanno. Ma l'amministrazione di Detroit è completamente corrotta. Guardate qui. Questo è alle 6.31 del mattino. E nel recente riconteggio in Georgia che significa che non significa nulla perché non vogliono controllare le segnature, la correttezza delle segnature. Abbiamo un segretario di Stato e un governatore che hanno reso molto difficile controllare le firme. Ma senza una firma controllata possono trovare centinaia e centinaia di voti che sono senza copertura e sono tutti contro di me. Questo è stato durante un riconteggio che io neppure pensavo che fosse importante. Hanno trovato migliaia di voti. E questo è in un riconteggio che non aveva importanza. Quelli che hanno importanza sono quelli che stanno avvenendo adesso. Perché visto che i voti sono così vicini, devono per legge fare un riconteggio. Ma il riconteggio deve essere un riconteggio in cui si controllano le firme. In questo caso le firme sulle buste sono le uniche cose che sia rilevante. Dobbiamo confrontare le firme con quelle delle elezioni passate e scopriremo che molte migliaia di persone hanno firmato illegalmente queste buste. L'unico modo per determinare se c'è stato un voto onesto è condurre un preciso controllo dei nominativi negli Stati e si scoprirà che molti di loro, decine di migliaia, sono firme false. Una piena audizione forense è richiesta per assicurarsi che solamente i voti legali da registratori reali siano contati nel conto finale. Questa elezione ha riguardato la maggiore frode elettorale che sia mai stata vista. Riguarda i controlli del voto a cui non è stato consentito di osservare e di voti per posta di cui nessuno sapeva da dove venissero ma che sono stati contati e non erano per me. Riguarda il vantaggio enorme che io avevo nella notte elettorale, un vantaggio per il quale ho ricevuto le congratulazioni per una facile vittoria e improvvisamente la mattina o un paio di giorni dopo questo vantaggio rapidamente scomparso. È su un numero enorme di voti che sono stati mandati per posta che nessuno sa da dove vengano. Riguarda delle macchine difettose, macchine che sono state fermate durante alcune parti della sera ma soprattutto riguarda le frodi. Queste elezioni sono state irregolari, tutti lo sanno. Io non mi dispiacerei se perdessi un'elezione ma voglio perdere in maniera giusta e regolare. Ciò che non voglio, che non accetto è che venga rubata al popolo americano un'elezione. È per questo che stiamo combattendo e non abbiamo scelta. Abbiamo già le prove, abbiamo già le dimostrazioni e sono molto chiare. Molte persone nei media e anche giudici per ora hanno rifiutato di accettarlo. Sanno che è vero, sanno che è successo, sanno chi ha vinto le elezioni ma rifiutano di dirlo. Io sono preparato ad accettare qualunque risultato elettorale, che sia accurato e spero che anche Joe Biden lo sia. Ma abbiamo già le prove, abbiamo già decine di migliaia di voti e più di quelli di cui abbiamo bisogno che hanno modificato il risultato degli stati. Questa è un'elezione nel più grande paese, la più incredibile nella storia del mondo. Ogni americano ragionevole sarebbe d'accordo considerando ciò che abbiamo documentato, che abbiamo bisogno di un'analisi sistematica dei voti postali per verificare la provenienza, per verificare le firme. E ci dirà tutto. Questo è il minimo che possiamo aspettarci. Non è qualcosa che riguarda la mia campagna, né è una cosa che riguarda chi sarà il prossimo presidente, è qualcosa che riguarda la fiducia e la sicurezza nelle elezioni americane. Questo riguarda la democrazia e il diritto sacro che generazioni di americani hanno ottenuto col sangue. Nulla è più urgente o importante. Gli unici voti che devono essere contati in questa elezione sono quelli dimostrati veri da cittadini del nostro paese, residenti negli Stati Uniti, e che hanno votato e firmato la busta in maniera legale prima della deadline delle elezioni. Non dobbiamo mai avere elezioni in cui non ci sia un sistema chiaro e verificabile e trasparente per capire l'identità e l'eleggibilità, la residenza di ogni singola persona che vota. Molte persone intelligenti si sono congratulate con me per tutto ciò che abbiamo fatto. Il più grande taglio delle tasse nella storia. Abbiamo migliorato il nostro esercito. Abbiamo assistito i nostri vieterani come mai prima e molte altre cose. Ma la cosa più importante e più grande, ma la cosa più importante e più significativa della tua presidenza è quella che stai facendo adesso. Difendere l'integrità del voto della nostra nazione è più importante di qualunque altra cosa che abbiamo discusso. Se non sradichiamo le orribili frodi che hanno avuto luogo nel 2020, non avremo più un paese. Con il supporto della popolazione americana riporteremo l'onestà e l'integrità nelle nostre elezioni, riporteremo la fiducia nel nostro sistema. Grazie. Che Dio vi benedica e che Dio benedica l'America.